Sono state oltre 200 le due ruote che hanno partecipato alla tradizionale benedizione del 25 aprile organizzata dal Centauro Club Forno Canavese, complice la stupenda giornata di sole e la spettacolare cornice del Santuario dei Milani. Così, ancora una volta, si è sentito il rombo assordante dei motori risuonare in quel luogo, che per 30 anni è stato l'arrivo di una delle più rinomate e partecipate gare nazionali di velocità in salita, la Forno Milani. Grazie al consueto appuntamento con la benedizione ideata dal Centauro Forno nato nel lontano 1954, gli appassionati si sono potuti ritrovare per passare un'allegra e spensierata giornata insieme. L'appuntamento, infatti, è molto sentito in tutto il Canavese e non solo, e rappresenta da sempre occasione di ritrovo per gli amici dei motori. Dopo la Santa Messa, Don Davide Mazza ha proceduto a benedire tutte le motociclette e i centauri, recitando insieme la preghiera del motociclista. Un centinaio, inoltre, i partecipanti al gustosissimo pranzo conviviale organizzato presso il bar ma è una gioia di Forno Canavese. Forno Canavese Forno Canavese